Qual è il proposito di questo governo nei prossimi 100 giorni, se si può mettere già in moto qualcosa, la quota 100, il taglio delle pensioni d'oro, dei vitalizi, il superamento della riforma, cosa si mette in cantiere da qui ai 100 giorni? Io volevo partire dicendo che condivido che abbiamo una grandissima responsabilità e il discorso che ieri ha fatto Conte è un discorso, mi spiace sentire, ha detto una cosa, non ha detto un'altra perché ieri ha parlato ad esempio della mafia, tutti hanno detto perché hai parlato della mafia, poi se uno non dice una cosa perché non hai parlato di una cosa, noi abbiamo un contratto, è un contratto molto chiaro che penso che sia gli ospiti ma ormai penso anche molti telespettatori conoscono bene, lui ha voluto dare un'idea di quello che per noi è questa nazione, un'idea del futuro di questa nazione, un futuro che si basa su due programmi elettorali che sono diventati un contratto, due programmi elettorali che ovviamente non erano uguali, uno era quello del centro-destra, uno era quello dei grillini che si sono fusi in un'idea di paese che cresce. Noi abbiamo visto negli ultimi sette anni un paese che di fatto ha visto solamente dei provvedimenti che recedevano, dei provvedimenti che aumentavano le tasse, dei provvedimenti che in nome dell'austerity, di grazie a quest'Italia, a queste tasse in più, vedremo crescere il paese, in realtà abbiamo visto un paese che ha aumentato il suo debito pubblico, un paese sempre più in affanno e in difficoltà. Sulle pensioni penso che questo sia stato chiaro sia nella parte della campagna elettorale che dopo la campagna elettorale, sia noi che il Movimento 5 Stelle riteniamo che quota 100 debba partire, è uno dei provvedimenti fondamentali come dare una pensione con una somma dignitosa, perché onestamente penso che uno dei grandi problemi al di fuori della sicurezza, quelli di cui parliamo di più, del lavoro in Italia, sia la questione... Oggi concentriamoci sulle pensioni, chiedo questo sforzo per fare un tema alla volta. Quota 100 assolutamente come riuscire a tutelare e tutelare tutte quelle persone che sono i lavoratori precoci e quota donna, questo c'è nel contratto e questo è uno dei punti principali su cui la Lega si batterà per portarla a casa ovviamente nel minor tempo possibile, ma è condiviso pienamente anche dal Movimento 5 Stelle. Ecco, quando arrivo un secondo Malpezzi, voglio chiedere questo alla Borgonzoni, perché quando si dice aboliamo la Fornero, come ha detto Salvini in campagna elettorale, può voler dire tante cose, quota 100 per voi è l'abolizione della Fornero? Ah certo, quota 100 risolveremo tenendo all'interno i lavoratori precoci, quota donna è ovvio che uno va a risolvere tutti quei problemi che abbiamo visto di queste persone che si sono viste la pensione piano piano spostata sempre più avanti. Io ricordo che l'Italia, se uno va a vedere sulla carta, siamo di fatto lo Stato dove si va in pensione più tardi, poi se uno prende il compito totale delle pensioni, ovvio che ci sono le persone già andate in pensione, per cui si ha un dato diverso, però noi abbiamo l'aspettativa di vita che entra in automatico, noi abbiamo una serie di cose che sono riuscite a sminare gli altri Stati e in nessun altro Stato si trovano ragazzi ad avere quella famosa letterina, persone che stanno lavorando, quella famosa letterina dove ti viene detto andrà in pensione a 70 anni se ti va bene. Ovvio è che riuscire a mandare in pensione quelle persone che dovrebbero essere già, perché è un diritto, in pensione oggi, vuol dire riaprire il mondo dei lavori a tutti i giovani, che qua non lo trovano e magari si trovano costretti ad andare all'estero. Allora, ci sono tante questioni sulle pensioni, abbiamo detto quelli che possono andare in anticipo perché hanno i lavori gravosi, l'opzione donna che c'era poi è stata tolta, mi fa il quadro, secondo lei e secondo il partito che ha il governo, di come si deve andare in pensione quando riuscirete a fare la riforma? Come vanno in pensione gli italiani? Abbiamo detto, ovviamente, quota 100 è quello dove noi vogliamo arrivare. Da quota 100 noi continueremo. Qual è l'età? Tutto quello che è opzione donna, fammi finire però, tutto quello che è opzione donna. Non l'età di quota 100, solo l'età mi interessa. Tutto quello che è opzione donna, i lavoratori fragili e i lavoratori precoci, ovvio che rimangono fuori perché un lavoratore precoce che ha iniziato magari a 20 anni, 19 anni, capiamo che quota 100 non è applicabile per lui. Ma c'è scritto nel contratto, per cui come la Malpezzi penso abbia anche il contratto sotto, non solamente la vecchia proposta della Lega lo fa benissimo. Come tutta la questione che ieri è stata discussa sulle pensioni d'oro, perché è stato un altro punto e mi spiace che durante la discussione sia uscito il fatto che noi vogliamo andare a colpire tutte le persone che hanno lavorato e hanno una pensione sopra i 5000 euro. Anche questo non è vero, noi vogliamo andare a colpire quelle persone che hanno una pensione sopra i 5000 euro ma che non hanno versato i soldi perché chi li ha versati e la copertura c'è per cui ha lavorato e ha versato, nessuno va a prenderli assolutamente i soldi. Io volevo dire, per quanto riguarda questo programma, ovviamente dove è all'interno questo contratto, dove all'interno ovviamente ci sono una serie di provvedimenti che qualcuno può anche dire o pensare diventano onerosi, come fanno uno a riuscire ad andare avanti in parallelo con un altro, perché ricordiamoci che la maggior parte comunque di questo contratto è all'interno quello che era nel programma del centro-destra. Io ritengo che la politica ha il grande compito di avere la visione del paese, di riuscire a unire vari provvedimenti che riescano a sostenere socialmente un paese, ma che uno con l'altro, come l'abbassamento delle tasse, io non posso offrire dei lavori a delle persone che sono rimaste fuori dal sistema lavorativo se dall'altra parte non abbasso le tasse alle imprese e creo lavoro. Allora, c'è una visione complessiva. Borgonzoni, le faccio però la domanda che faceva Malpezi perché noi anche la stiamo mettendo in grafica, cioè in un primo momento l'opzione 100 vale quando si ha compiuto 64 anni? Sì, parte così. Sì, parte così.